Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e Bibio 1, variante di Valico. In FIPI lì per lavori è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza. Tra Montelupo e Ginestra, con restringimenti per corsi alternativi sull'SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Chiudiamo con il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!